La dorsale adriatica è stata finora esclusa dalla rete europea dei corridoi della mobilità. A dichiararlo ieri dal vertice barese dei governatori è il presidente Marsilio, che però è fiducioso in una svolta che definisce epocale. Il processo di revisione della rete transeuropea dei trasporti era stato avviato dalla Commissione europea nel 2019 e oggi l'Unione sta definendo, con tutti i vari paesi, una nuova geografia della mobilità. Se la proposta dei governatori di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dovesse essere accolta, dovrebbero aggiungere finanziamenti anche per la dorsale centro-meridionale, tramite cui saranno realizzati porti, interporti e aeroporti e saranno potenziate autostrade e ferrovie, sia lungo l'Adriatico, sia verso il terreno, con la tanto agognata Roma-Pescara. La richiesta che le quattro regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, hanno unitariamente presentato al Governo e all'Europa un anno fa a seguito di questa intesa e che ha rafforzato il negoziato nei confronti delle istituzioni nazionali e sovranazionali, è oggi a un punto di svolta e noi attendiamo a settimane, quando sarà chiuso questo negoziato, una risposta positiva, quantomeno per il prolungamento del corridoio che corre lungo la dorsale Adriatica, che sarà comunque l'infrastruttura, la dorsale, la spina dorsale, attraverso la quale anche poi innestare i collegamenti trasversali verso il terreno e completare quindi quella rete di mobilità che darà maggiore competitività alle nostre aziende e ai nostri cittadini. L'incontro di ieri a Bari tra i quattro governatori è stato il primo vertice dalla firma del protocollo a Pescara del 24 ottobre 2020. Alla riunione ha partecipato anche il direttore generale della Regione Abruzzo ed ex amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morgante. Andare tutti insieme a reclamare con forza i giusti diritti di questo territorio ha reso più credibile e più autorevole la proposta e quindi anche l'ascolto da parte del Ministero, del Governo e io spero appunto conclusivamente dell'Europa stessa sarà all'altezza delle aspettative e dei bisogni. Sicuramente meglio del passato.